Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Elio Lopez che vuole che faccia due parole sul film del 1977, caltissimo trash, Luigi Bazzella, La bestia in calore, Eros Bastica, come si venivano schiamati all'epoca, tutto quel filone appunto di film con nazisti che torturavano belle donne ebrei o comuniste o via dicendo. Qui Luigi Bazzella che si firma Ivan Katanaschi mi pare e dirige questo appunto film che oltre a essere uno dei film di più cattivo gusto dell'universo, cioè incredibilmente girato anche in modo abbastanza a tratti inconcepibili visto che poi vengono usati pezzi di repertorio di altri film di Bazzella e si nota il cambio di fotografia, il cambio di montaggio, il cambio clamoroso di tutto. Insomma, ma il film dovrebbe narrare la storia di quest'uomo creato geneticamente che dovrebbe raggiungere la razza perfetta interpretato da Salvatore Baccaro che è il più perfettissimo, non mi sembra che faccia, che per tutto il film rugisce, fa ghigni che dovrebbero spaventare e che in realtà sembrano più uscire da un film con Lino Banfi e da una commedia scollacciata più che da un film che dovrebbe essere drammatico e violento. Il film poi è tutta una serie di torture che la dottoressa Cratch nel suo castello ormai occupato dai nazisti praticamente fa i suoi, oltre a far stuprare e fare i suoi esperimenti con la bestia, con appunto partigiane e prigioniere varie tortura gente, la deflagra, insomma la trama è tutta qui, poi ci sono il classico gruppo di partigiani che dovrebbe salvare il tutto con l'aiuto di un pete, ma chiaramente la trama è una scusa per Bazzella per in realtà mettere in scena varie torture, tra cui quella famosa fuoco e il secchio sulla pancia col topo che si deve fare, diciamo così, strada attraverso il corpo della giovane fanciulla sono 6.000 poi i momenti che vorrebbero essere appunto splatter, le dita strappate, le unghie di cento, il film è come al solito di un cattivo gusto allucinante, però è veramente moralmente discutibile ed è una delle cose però più trash che mi siano capiti, io non smettevo di ridere all'inizio e alla fine nonostante l'argumento sia trattato sia veramente complessissimo, anche l'idea appunto che venga da film meravigliosi come il portiere di notte Salò oppure Salonchitti, anche se qui poi la nostra interpretata da Masha Magal che appunto fa la dottoressa Kirch e vuole sembrare più un Ilza, un Ilza della beva delle SS, è un film violentissimo con degli effetti comici però fa l'effetto contrario, le torture fatte dai partigiani sono enormi, le nudità si sprecano, il piano di Fie è inimmaginabile, una più buona di vellate, su quel punto siamo tutti d'accordo, Baccaro appunto essere mostruoso, super dotato che deflagra le Fie e che poi si può dire nel finale farà lo stesso sulla sua dottoressa cretice, si prenderà la sua vendetta, insomma è veramente uno dei film più assurdi e non riesco a capire come siamo potuti venire in mente di fare una cosa del genere, ripeto un film che fa più ridere che altro nonostante la sua appunto completa e assoluta totale, secondo me come quasi tutti in Axie Explorations non se ne salva, quasi nessuno, sono tutti veramente uno dei sottogeniti più biechi mai nati nel cinema però anche più trash in un certo senso e divertenti se presi con lo spirito giusto perché in un certo senso qui ci troviamo di fronte quasi a una parodia, quasi a un film di Mel Brooks senza rendersene conto, è veramente un troiaio secondo me inimmaginabile, certo è che però secondo me è una visione della merita perché un trash di tale livello secondo me è rarissimo trovarne specialmente involontari, è tutto sbagliato, tutti i costumi dei nazisti sono la svastia al contrario che è proprio un errore clamoroso, siamo di fronte a un'opera incredibilmente brutta, incredibilmente malfatta e sciatta in tutte le sue situazioni, le scena di azioni sono deliranti, come ho detto le scene di tortura sono messe a caso, le scene di sesso idem, quindi un film veramente incredibile del quale ringrazio Elione di avermi fatto parlare perché è qualcosa di cui probabilmente non avrei mai parlato in vita mia, se amate il trash, la bestia in calore probabilmente fa per voi, se come me comunque reputate il nazismo, le sue torture, le sue cose una cosa seria, il film un po' potrebbe anche irritarvi però veramente poi alle facce e alle nudità di Baccaro non si può altro che ridere e pensare qui sono completamente fuori di testa, poi quando si vede gli inserti chiari di altri film di Bazzella capiamo che siamo di fronte veramente a qualcosa di indescrivibile e che come discutevamo appunto con Olly e con Elio comunque vale di più della visione di Avengers Endgame, ecco è più divertente questo di quello e questo è abbastanza inquietante, gli effetti splatter sono veramente risibili e il tutto è completamente fuori di cervello, così tanto appunto forse da risultare un cult di sicura, uno scult assoluto, qualcosa di incredibile ed anche da descrivere l'unico modo è vederlo, anche se poi vederlo probabilmente vi preoccuparà danni a dei neuroni che andranno perduti per sempre.